La sua majestà, madame royale. La sua majestà, madame royale. Un'ora per mettere la barbacca, capite, non arriva. Mamma mia, mamma mia, ci ha pigliato un cuore perché ha messo il cuscino là. Hai capito, guarda qui, c'è un cino qui. Mamma, la bibichina si è schiacciata le balle. C'è un ombre, la mia cuscina m'a fatto. Qu'est-ce que vous avez faite? J'ai schiacciata le ditte sur le travail. Allumez. Nous sommes vraiment content d'être entre nous, comme tous les samedis. Mais avant de commencer notre fête, il faut penser un moment, un petit moment, au moins, à un autre chère amie, qu'il est mort assassiné pour la main d'un cochon. La damara ! C'est ce qui m'a fait, la finesse. Si, si, c'est que m'a fait. Si, c'est un pettege. Si tu me l'as fait vraiment très rough. Povera Bianconi. Che impressione mi ha fatto? Ma chi è questa damara? Silenzio! Ossi voi, con il piano! Scusate, ma voi... Non è che ora, non la stessa, non la stessa, non la stessa. Un panino, per favore, non l'ho mai mangata, madame. Quelque di bello? Tutte le cose sono tante. Madame, un petit panino. Madame la Marchise, venez. Vite, vite, vite. Le buffet. A moi? A vous. Ah, perché? Questi due qui non fanno niente. No. Les deux sont des bijoux. Sont pas des femmes de chambre, n'est-ce pas? C'est à vous! Ah, andiamo bene. Especate un po' questa... E aspettate un momento, affamate, che roba! Ecco, io vorrei sapere come passo da questa porta. Quel guardaroba lì si mette in mezzo, non so come faccia a passare adesso. Ste due pazzi si ottelo per la storia del greco. Madame, me lo vuole dire lei, per favore, come faccia a passare con questa davanti alla porta? Ando mandando la permissione. Io lei? Ah, andiamo bene. Io ho una Marchesa che chiede a questo un permesso, ma ti vuoi spostare un momento? Non mi risponde, pa. Oh! Ah, già, perché tu la bocca l'apri soltanto quando non mi fa parlare. La fa arrabbiare. Tu vieni con me. La fa arrabbiare sempre. Quella zozzona di Sua Maestate ha già messo gli occhi addosso. Combien di volte dovrei dire che, avanti a cominciare la festa, dovrei presentare a me tutti i ragazzi che vengono qui. Parlo per voi, bambola di Pecchino. A me? Venite, venite. Hai visto? Che ti avevo detto, andiamo, va? Madame, je voudrais presentare un amico a moi che voudrais avere l'honneur di fare votre connaissance in Guinness. Un très joli garçon, n'est-ce pas? E il parle notre langue? No, madame, il est italienne. Italienne? E de quel città? Mestre, sapete a côté de Venise? Oui. Venise, Venezia. Et vous avez un gondole? Oui, madame, l'homme comme ça. Pas de vulgarité, n'est-ce pas? Pas de vulgarité. Es-ca-té. Allez, 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 allez. Non, mais se ne va, n'est-ce pas? L'ho fatta de buttà corte a questo.